Artigiano in Fiera 2019, siamo spostati in Friuli con l'azienda agricola Faleschini che rispetta tre parole chiave, tipicità, passione e rispetto per l'ambiente. Buongiorno a tutti, sono Faleschini Luigi, un'azienda bio certificata dal 1990 in Val Canale, Canale del Ferro, precisamente a Pontebba, in Friuli, Venezia Giulia. La mia attività si tratta principalmente di produzione di ortaggi e frutta con la valorizzazione delle biodiversità, delle varietà locali e con le produzioni aziendali trasformo direttamente, quindi con un concetto di filiera corta, in conserve vegetali che abbiamo un'ampia gamma di prodotti, quasi 54 referenze, spaziando dalle erbe selvatiche ai sottogli agli agrodolci, alle creme a base di verdura e creme di frutta da abbinare a formaggi a sciroppi di erbe e come ultima unità abbiamo fatto anche la birra quest'anno quindi insomma di prodotti non ne mancano.